Oggi è il 2 ottobre, e siamo pronti a esplorare le previsioni astrologiche per ogni segno zodiacale. Vediamo insieme cosa hanno in serbo per voi le stelle e i pianeti oggi. Ariete. La seconda metà di ottobre sarà sicuramente molto propizia per voi, quando avrete Mercurio dalla vostra parte. Nella prima parte dovrete invece mettere a frutto le vostre brillanti intuizioni ma evitando di fare il passo più lungo della gamba. Andrete incontro a qualche giornata in cui il vostro umore sarà altalenante. Concentratevi di più sull'amore e sui vostri affetti più cari e meno sulle questioni pratiche. Le discussioni vi irritano, ormai è chiaro a tutti, compreso il partner. Tuttavia, questo è il momento giusto per affrontare un tema delicato che avete evitato per troppo tempo. Collaborare per trovare una soluzione potrebbe portare a una maggiore comprensione reciproca. Se siete single, approfittate dell'aria aperta e trascorreteci più tempo possibile. Avete passato troppe ore al chiuso, e questo vi ha fatto perdere il contatto con ciò che è davvero importante per voi. Oltre al vostro consueto lavoro, potrebbe essere necessario affrontare anche impegni straordinari. Mantenete la calma e organizzate le forze per superare la giornata al meglio. Toro. Periodo positivo, con un ma, occhio a trattenere il nervosismo. In amore trovate un modo creativo per ravvivare la relazione, che ultimamente sembra aver perso un po' il dislancio. Se mostrerete il vostro amore in modo autentico e senza riserve, la risposta sarà piena di gratitudine e di un trasporto emotivo che rafforzerà il legame tra voi. Per i single, una serata trascorsa con persone care sarà un vero toccasana. Spesso ci concentriamo sul benessere fisico, trascurando quello mentale. Una piacevole e ragionata convivialità potrà aiutare a ritrovare serenità ed equilibrio interiore. In ambito lavorativo, riuscirete a riprendere in mano una situazione complessa che altri avevano abbandonato. Giornata che parte in maniera interessante soprattutto per il lavoro, mentre in amore dovrete fare ancora i conti con l'opposizione di Venere che continuerà a seminare ostacoli e controversie. Siete piuttosto diffidenti in questa fase, soprattutto se si parla di amicizie e sentimenti. Tendete a non fidarvi di persone che non si sono dimostrate sincere e leali con voi in passato. Forse avete paura di prendere una fregatura e per questa ragione siete molto più cauti. Gemelli Venere è pronta a regalare belle occasioni in amore e nel lavoro. Finalmente realizzerete quanto siete fortunati ad avere una famiglia così bella, unita e forte. Insieme, comincerete a fare nuovi progetti e potrebbe emergere all'orizzonte l'idea di un viaggio, da pianificare subito per condividere momenti indimenticabili. Se siete single, la compagnia dei vostri cari sarà la chiave per il buon umore. Basterà poco per farvi sorridere, specialmente quando siete circondati dalle persone che non tenete di più, che sanno regalare i momenti più gioiosi della giornata. Al lavoro, la personalità che avete emergerà con forza, permettendovi di raggiungere gli obiettivi a lungo desiderati, vi farà guadagnare punti preziosi, anche agli occhi dei superiori, consolidando la vostra posizione nell'ambiente professionale. Il fatto di avere dalla vostra parte sole e mercurio, è un grande vantaggio in questa prima parte di ottobre. Ovviamente bisogna capire sempre da dove si parte e quali sono le vostre ambizioni. Dopo una fase critica, stanno adesso arrivando nuove soluzioni. Anche se avete chiuso un rapporto che vi faceva stare male, adesso state decisamente meglio perché vi siete liberati di un grosso peso. Insomma, come si suol dire, non tutto il male viene per nuocere e adesso lo state capendo. Cancro Ogni tanto vi arrabbiate perché qualcosa non gira per il verso giusto. D'altronde il fatto di avere Marte nel segno porta un certo disagio. Secondo l'oroscopo del giorno, la giornata odierna vi vedrà un po' sotto pressione. Per la famiglia e le pesone che hanno in cantiere il sogno di sposarsi, sono in arrivo grandi decisioni. Dovrete solo non farvi prendere da quel nervosismo che ogni tanto vi attanaglia. Tutto è più faticoso soprattutto per chi sta facendo dei cambiamenti nel lavoro. Ma ben presto i vostri sforzi saranno ripagati. Il 2025 per voi sarà un anno di crescita importante. Giornata da dedicare alla riflessione. Gli astri in parte saranno dalla vostra parte, favorendo l'espressione delle emozioni che, fino a pochi giorni fa, tenevate nascoste al partner. Questa apertura vi permetterà di vivere una giornata davvero indimenticabile, con il cuore e i sensi in subuglio, alimentati da un intenso desiderio di dolci attenzioni. Se siete single, ricordate che la fortuna sorride agli audaci, soprattutto in amore. Sarete pronti a mostrare il vostro spirito avventuroso e la determinazione nel conquistare cuori impavidi e apparentemente irraggiungibili. Sul fronte lavorativo, Plutone conferirà efficienza e brillantezza nelle attività quotidiane. Questo è esattamente come vi vedono i colleghi nell'ambiente di lavoro. Leone. Vi sentirete particolarmente inclini a coccolare e viziare il partner, e sarà difficile resistervi, poiché sapete come fare per essere adorabili. Partire con il piede giusto può fare la differenza, iniziate la giornata con una colazione deliziosa e tante coccole, e tutto prenderà una piega positiva. Per i single, gli astri saranno dalla vostra parte, sarete irresistibili grazie al fascino, alla simpatia e alla determinazione con cui vi farete strada, sia in contesti pubblici che privati. Sul lavoro, il vostro savoir-faire sarà determinante per risolvere una situazione complicata. Dimostrerete di essere dei veri fuoriclasse, non solo per la competenza professionale, ma anche per l'abilità nel gestire i rapporti interpersonali con uno spirito di conciliazione che conquisterà tutti. Siete vicini ai vostri obiettivi, grazie al duro lavoro che avete svolto. Siete un segno forte e determinato, nulla può farvi crollare. Avete combattuto una lunga battaglia, ma ora state per vincere. Cercate di mantenere la calma e di non farvi sopraffare dalle emozioni negative. Vergine. Belle novità stanno per arrivare. La giornata intanto inizierà nel migliore dei modi, promettendovi soddisfazioni sul fronte affettivo. Sarete pervasi da una forte gioia di vivere e avrete voglia di condividerla con il partner, trascorrendo insieme una serata dolcissima e carica di emozioni. Per i single, continua un periodo straordinario, il cielo vi offrirà un ventaglio di opportunità che saprete sfruttare con la vostra tipica energia e il desiderio di contagiare con entusiasmo e allegria. Sul lavoro, partirete con tutte le carte in regola per affrontare la giornata al meglio. Non permetterete a nulla e nessuno di ostacolarvi, e dimostrerete ai colleghi quanto avete realizzato finora, ottenendo il giusto riconoscimento per i vostri sforzi. Vorreste un po' di tranquillità ma non è facile. Da giugno cercate nuove soluzioni per ritrovare serenità, ma non è così facile. Siete un po' stanchi e nervosi, ma avreste bisogno di aiuto o di assistenza. Dovreste vivere le cose che vi capitano in questo periodo con grande leggerezza e con un po' di fatalità, senza crearvi troppe aspettative. In questo inizio di ottobre l'amore potrebbe tornare protagonista. Per chi è single ci sarà modo di conoscere delle persone molto interessanti. Bilancia Le eccessive pressioni nel lavoro potrebbero un po' schiacciarvi e farvi stare un po' male. Ma voi siete persone ambiziose e quindi dovrete cercare di tenere la barra dritta. Questo cielo è buono e vi permetterà di vincere una sfida dopo tanti anni. Certo riuscire a tenere testa a tutto e a tutti costa fatica, anche perché Marte è contrario. Insieme al lavoro e allo stress mentale, ci sarà anche da curare il vostro aspetto fisico che ultimamente avete trascurato, ma con queste stelle potrete andare lontano, quindi non scoraggiatevi. La giornata del 2 ottobre si prevede ottima, con l'amore e il lavoro in perfetta armonia. A rivoluzionare positivamente il periodo l'ingresso della luna nuova nel proprio segno. Le stelle incoraggiano la creatività e gli affetti, con la luna che offrirà un supporto speciale alle relazioni e ai legami familiari. In coppia, l'armonia sarà tangibile, anche se sotto la superficie potreste avvertire un velo di insoddisfazione che invita a riflettere. Per chi è alla ricerca dell'amore, potrebbe presentarsi un'inaspettata occasione, grazie al ruolo di un amico che farà da ponte verso nuove conoscenze. Nel campo professionale, un imprevisto sarà risolto con successo, mantenete la calma e evitate di esagerare, affrontando la situazione con lucidità e senza allarmismi. Scorpione. Queste stelle saranno molto interessanti per coloro che hanno grandi ambizioni. Il fatto di avere paura di sbagliare potrebbe rappresentare un ostacolo. Chi vuole confermare un contratto o aprire nuove società, potrà avere via libera. Secondo l'oroscopo del giorno, avrete semaforo verde anche in amore. Se avete conosciuto una persona intrigante, adesso è venuto il momento di farvi avanti e rivelare i vostri veri sentimenti. Il cielo del weekend sarà davvero interessante. La giornata scorrerà tranquilla, accompagnata dalla solita routine che però potrebbe risultare più piacevole del previsto. In amore, fate attenzione a non cedere a inutili lamentele, le piccole discussioni potrebbero trasformarsi in battaglie se non riuscirete a contenere l'impulsività. Single. Trovate un modo per smorzare le tensioni in famiglia e concentrarvi su ciò che conta davvero. In ambito lavorativo, l'euforia potrebbe spingervi a distrarvi con troppa facilità. Restate concentrati per evitare sprechi di tempo e per portare a termine i compiti con precisione. Un po' di buon umore non guasta, ma dosate le energie con saggezza. Sagittario. Mercoledì sarà caratterizzato da una certa tensione, a causa della posizione ostile di luna e urano. In amore, preparatevi a qualche incomprensione con il partner, con discussioni che richiede molta pazienza. Lasciate andare la necessità di controllare tutto e accettate che a volte le cose non seguano un filo logico. Per chi è single, si avvertirà il bisogno di uscire dalle solite dinamiche e osare un po' di più, magari inseguendo una persona che scatena fantasie e desideri. Nel lavoro, un confronto potrebbe richiedervi di dimostrare le vostre competenze, siate pronti a far valere le vostre capacità e lasciatevi ispirare da nuove idee o collaborazioni. In genere non vi accontentate di partecipare ad una competizione, volete vincere e sbaragliare il campo. Tuttavia dovrete fare i conti con Giove opposto e quindi servirà un po' di rodaggio prima che un progetto possa davvero ingranare. Insomma, in questa fase serve avere grande pazienza. In amore, dopo il 17 ottobre, avrete una venere importante che vi darà una grossa mano d'aiuto. Le storie che hanno sofferto molto ad agosto, potranno recuperare, se c'è ancora voglia di rimanere insieme. Capricorno Ci sono delle questioni di lavoro che in questo momento rappresentano per voi un motivo di preoccupazione e di tensione. Con Marte in opposizione si sono aperte delle crepe nella vostra vita, che non sarà facile col mare. Nella prima parte di settembre avete vissuto una fase stancante anche a livello sentimentale, adesso però dovrete ritrovare la voglia di amare. Se da poco avete iniziato un progetto, sappiate che ci vorrà del tempo prima di carburare. Novità in arrivo nel fine settimana La giornata partirà un po' a rilento, ma non disperate. Nel corso del pomeriggio, le cose si assesteranno, anche se non senza qualche sforzo da parte vostra. In amore, la chiave sarà la disponibilità all'ascolto, se il legame con il partner ha bisogno di una marcia in più, dimostrate tutta la sincerità che potete. Chi è solo, sarà spronato da un'ottima posizione lunare a compiere scelte coraggiose, anche se gli stimoli arriveranno gradualmente. In ambito professionale, il momento è propizio per considerare nuove opportunità, ampliando le conoscenze e preparandovi a eventuali cambiamenti. Non abbiate timore di rivedere certe strategie per trovare soluzioni più adatte ai vostri progetti. Acquario L'acquario è vincente in questa fase per la sua creatività e anche perché è fuori dal mucchio e quindi gioca un riolo da outsider. Cercate di sviluppare delle idee innovative e sarete ripagati. In amore, i rapporti in crisi a causa di venere dissonante, potrebbero vivere dei momenti un po' concitati. Qualche provocazione di troppo potrebbe mandarvi in bestia. Nel weekend dovrete cercare di discutere con calma con il partner anche per capire come gestire il vostro futuro. La curiosità vi catapulterà verso nuove esperienze di vita. Questo mercoledì sarà carico di ottimismo. In amore, la luna positiva vi renderà ricettivi e pronti a cogliere tutte le occasioni che si presenteranno. Rimanete aperti alle novità, accogliendo con entusiasmo ogni possibilità di crescita. Anche chi è in cerca di una nuova storia vivrà un momento di apertura e spontaneità, quindi fate attenzione a non sembrare distaccati, qualcuno potrebbe fraintendere il vostro atteggiamento. Sul lavoro, finalmente si presenterà l'occasione di dire la propria riguardo a un tema delicato, sfruttate l'opportunità per mettere in luce idee innovative e mostrare il vostro valore. Pesci. Rispetto alla giornata precedente, adesso le cose vanno decisamente meglio anche grazie ad un quadro astrologico più confortante. Secondo l'oroscopo del giorno, state vivendo una fase altalenante in cui malinconia ed euforia si alternano, anche perché siete persone molto sensibili. Cercate di liberarvi di quei fardelli che pesano sulla vostra mente. Se dovete portare avanti un progetto, la seconda metà di ottobre porterà successi grazie alla presenza di pianeti più stimolanti. Mercoledì rischia di essere un po' sottotono, con qualche piccolo intoppo pratico che potrebbe stressarvi. In amore, un dialogo aperto e onesto sarà la chiave per evitare malintesi con il partner, soprattutto se avete vissuto di recente tensioni latenti. Chi è singola avrà la tentazione di allontanarsi da tutto e tutti, ma la soluzione sarà trovare un equilibrio tra la voglia di evasione e le necessità che la vita impone. Sul fronte professionale, evitate di lanciarvi in decisioni azzardate e prendetevi il tempo necessario per analizzare ogni scelta. Il momento giusto arriverà, ma è preferibile non forzare la mano.